allora un piccolo rappel con qualche aggiunta dieci minuti ci occupiamo dei formati abbiamo parlato dell'ipab e dell'ipab 3 che sono in vigore l'ipab per lo meno in vigore dal 99 ed è uno standard standard non significa che si tratta di una applicazione utilizzata da tutti dalla maggior parte delle persone non il concetto di standard da un punto di vista informatico non ha a che fare con la quantità d'uso la diffusione di una determinata applicazione ma ha a che fare con la validazione da parte di un consorzio riconosciuto a livello internazionale in questo caso abbiamo l'international digital publishing forum questo è il consorzio che ha creato il formato ipab e quindi stabilisce la validazione del dei libri che sono pubblicati in questo formato che prima di essere pubblicati devono essere validati da questo consorzio questo consorzio ovviamente affinché sia un consorzio che abbia una una reale dimensione influenza non è una cosa che possiamo creare io e quattro di voi che ci mettiamo lì e stabiliamo lo standard dei futuri libri eccetera no è un consorzio qui partecipano le principali aziende interessati e quindi si chiamano attori i principali attori del settore della pubblicazione editoriale e della dell'informatica della creazione distribuzione di applicazioni tanto per darvi un'idea c'è apple c'è microsoft ci sono adobe ci sono gruppi editoriali insomma è un consorzio molto ampio che stabilisce questo tipo di linguaggio per questo motivo si dice che è standard ci sono anche altri formati che come abbiamo visto per esempio il mobile kf8 che sono la risposta di amazon all'ipub al consorzio di pub e questi non sono dei formati standard sono dei formati estremamente diffusi largamente diffusi praticamente tutto il mondo li utilizza e perché perché sono i libri praticamente che voi comprate in amazon di book in amazon e che poi leggete attraverso il kindle però non sono uno standard sono un formato proprietario ecco la differenza quindi standard è un formato aperto e definito da un consorzio internazionale invece il i formati di libri di amazon sono di proprietà di amazon e non rappresentano uno standard benché siano molto molto diffusi e questo che cosa determina determina il fatto che anzi spieghiamo questo perché è un modello proprietario amazon ha deciso di costruire il proprio modello di book e non si è appoggiato sull'ipub perché amazon ha un suo modello di business ha un suo ambiente attraverso il quale vende libri in un determinato formato e vende anche i dispositivi per leggerle per leggerli che sono i kindle con il termine kindle quindi noi intendiamo tanto l'applicazione di lettura che abbiamo visto anche l'altra volta kindle l'applicazione di lettura questa vedete l'icona qui in basso che è proprio il il piccolo dispositivo elettronico di lettura sapete quegli aggeggini piccolini che assomigliano a dei tablet che non sono dei tablet sono rivolti esclusivamente alla lettura di libri e che hanno la caratteristica a differenza di tutti gli altri di tutti gli altri nel senso tablet ipad eccetera di imitare l'inchiostro di quindi la visualizzazione e la percezione visiva dell'inchiostro quindi amazon ha creato un proprio ambiente attraverso il quale vendi libri in un determinato formato che possono essere letti solo da kindle ora siccome però non è riuscita a conquistare il dominio del mercato mondiale degli ebook si è posta all'alternativa vale a dire se avesse continuato a produrre dei libri proprietari leggibili solo attraverso il suo dispositivo non sarebbe riuscita a entrare nel mercato degli altri libri quindi nel mercato degli ipad nel mercato dei libri in formato ipad che si reggono anche attraverso dispositivi che non fossero i kindle di amazon quindi che cosa è successo è successo che amazon ha creato anche un'applicazione che si chiama kindle che quella che vi ho mostrato sotto qui prima con l'icona e questa applicazione naturalmente è stata sviluppata per tutti i sistemi quindi per i sistemi windows per i sistemi apple e così via in questo modo si comprano sempre i libri in formato kindle su amazon e non solo si possono comprare un po adesso adesso un po in tutti gli store e si possono leggere anche con applicazioni kindle che non sono però i dispositivi kindle quindi vedete qui in questo caso il comportamento dei lettori quindi del pubblico che ha adottato il formato ipad ha influito anche sul comportamento di altre aziende che avevano sviluppato delle politiche differenti una storia invece di grave insuccesso è stata la storia di apple sempre nel mercato dei libri allora apple che cosa ha fatto apple fin dall'inizio ha adottato il sistema ipad tant'è che si ritrova anche nel consorzio che ne definisce le specifiche quindi è qui all'interno apple è perfettamente compatibile con l'ipad tant'è che noi utilizziamo pages come la migliore applicazione possibile per trasformare rapidamente un testo in un ebook in formato ipad però però apple aveva sviluppato un formato che si chiamava multi touch book cioè un formato fortemente interattivo graficamente impostato in un certo modo con il quale pensava di prendere soprattutto una fetta del mercato di libri interattivi che era il mercato education altra al quale apple presta una grande attenzione attraverso tutta una serie di azioni che fa per entrare nel business di questo mercato e il multi touch book era appunto uno degli elementi chiave perché permetteva di costruire libri interattivi che però erano distribuiti solo nello store di apple e lo store di apple è libri l'abbiamo visto l'altra volta questo da qui si potevano scaricare acquistare perché era l'unico store compatibile con questo formato e poi potevano essere creati solo da una particolare applicazione che funzionava con i dispositivi apple cioè praticamente solo con i computer di apple quindi neanche con gli ipad o con gli iphone quindi bisognava avere un computer apple per creare un libro molto interattivo molto bello sicuramente in formato multi touch book ora due anni fa o addirittura tre altri tra due e tre anni fa questo formato è stato definitivamente abbandonato definitivamente abbandonato perché l'operazione educativa rivolta alle scuole è stata un'operazione fallimentare naturalmente perché perché per produrre un libro di testo per esempio in questo formato e distribuirlo in una scuola sarebbe stato necessario che quella scuola tutta al completo e tutti gli studenti adottassero come dispositivo un ipad di apple cosa assolutamente che si è verificata in qualche caso e qualche caso in italia è successo ma assolutamente è una cosa che non avrebbe potuto verificarsi tra l'altro io giusto una quindicina di anni fa ne avevo parlato con dei dirigenti di apple gli avevo spiegato che questa cosa era assolutamente fallimentare loro insistevano invece nel dire che non era così ma poi voglio dire non è che ci voleva una scienza per capire che questa strada sarebbe stata abbandonata queste tre storie sono interessanti perché ci fanno capire un po di cose ci fanno capire che il mercato degli ebook è un mercato in movimento che tutto quello che succede all'interno di questo mercato ovviamente ha delle finalità legate al marketing alla distribuzione vendita e quindi realizzazione di profitti nel campo editoriale sia che si tratti di libri commerciali sia che si tratti di libri di testo e così via e ci fa capire alla fine che dal momento in cui esiste uno standard alla fine tutti si devono adeguare a questo standard oppure devono intraprendere delle operazioni per fare in modo di non essere isolati dallo standard che viene definito ecco perché per noi è così importante e prioritaria la pubblicazione in ipab in ipab 3 mentre la pubblicazione in formato kindle per noi non è fondamentale è una cosa diciamo in più che possiamo offrire a un lettore ma non è fondamentale perché perché la la diffusione standardizzata di un ebook sia a impatto testuale che impatto visuale avviene attraverso questa codifica che è appunto quella definita dall'idpf cioè dal consorzio che stabilisce le specifiche dell'ipab poi abbiamo anche un'altra curiosità che è l'html 5 l'html 5 una cosa che diciamo ha preso piede negli ultimi 10 12 anni ed è una riscrittura del linguaggio html con quale sono create le pagine web che consente tutta una serie di interazioni molto forti che prima il linguaggio html non consentiva una di queste funzionalità è di poter incorporare al suo interno degli ebook in formato ipab 3 quindi se nel momento in cui si crea un ebook in questo formato dunque qual era era il formato a impatto visuale ricordate quello interattivo bene allora ecco questo può essere una novità interessante che essendo l'html 5 compatibile con il formato entro certi limiti è perché bisogna sviluppare delle conversioni eccetera però fondamentalmente essendo compatibile con il formato ipab 3 ed essendo questo uno standard ecco allora che può essere interessante a volte pubblicare un libro a impatto visuale quindi un libro che graficamente non è modificabile non è a priorità di lettore è a priorità di autore o di editore però può essere interessante trasformarlo in una sorta di web app attraverso la quale poi viene il pubblico ne fruisce quando avete avrete visto che in biblioteca ho aggiunto un giochetto un giochettino che si intitola mi sembra il gatto o qualcosa del genere comunque parla di sentimenti e emozioni questo giochetto è un giochetto che ho realizzato creando il libro in formato ipab 3 e poi incorporandolo nel nel web come html 5 attraverso la costruzione di una web app allora che cosa abbiamo abbiamo il fatto che nel momento in cui creiamo un libro interattivo fondato su dei giochi è quello che che vi ho dato è una cosa piccola naturalmente potremmo sviluppare qualche cosa di molto più invece ricco pieno di giochi eccetera eccetera quindi quando creiamo un libro a forte impatto interattivo allora può essere interessante anche la sua pubblicazione all'interno di una pagina web per esempio del vostro sito del sito della scuola e così via anzi possiamo dire addirittura questo che possiamo creare un ebook in ipab 3 non per distribuirlo come ebook ma per avere a disposizione delle web app all'interno di pagine web bene se tutto questo è chiaro non ci sono domande o risposte la domanda poi la trovo io in base alla risposta che date questo è un vecchio gioco di fantozia e paolo villaggio poi abbiamo visto le caratteristiche di e pub sul quale non ritorno texture flow vi ricordate che cosa vuol dire eccetera eccetera poi abbiamo visto cosa abbiamo visto le caratteristiche di pub 3 non abbiamo detto che fra le specifiche di pub 3 figurano anche una serie di codifiche tecniche interessanti come per esempio appunto l'html 5 di cui abbiamo parlato la costruzione di css3 cioè di un'impaginazione ad hoc che l'editore o l'autore può mettere in atto può darsi che ci sia qualcuno di voi che insegni non so materie grafiche progettazione cose di questo genere e quindi oppure che sia un appassionato di queste cose e quindi sa di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di stili grafici che sono applicabili a dei modelli e magari è in grado anche di crearlo allora sappia che attraverso l'applicazione pubcoder si può creare i propri css cosa che noi non facciamo prima di tutto perché non è il mio campo non sono un grafico io che si occupa di queste cose ma poi perché non avremmo il tempo e non è necessario i nostri fini poi è compatibile anche con matml con javascript quindi possono chi di voi è capace per esempio si occupa di questo può addirittura creare dei giochi in javascript e poi inserirli in un in un libro in formato ipad 3 perché è compatibile quindi diventa l'ipad 3 diventa veramente un contenitore incredibile per creare delle applicazioni interattive straordinarie poi continuando un po' le cose ah questa è la storia ve l'ho spiegata va bene la storia del multitouch book poi il formato pdf ecco di questo abbiamo solo accennato e allora il formato pdf non è un formato per ebook non lo è anche se molti libri molti editori molti store di acquisto di book ti presentano anche il libro in formato pdf non lo è tecnicamente per una serie di motivi allora prima di tutto non è uno standard il formato pdf che è usato da tutti quindi da 4 miliardi 6 miliardi di persone al mondo nonostante questo non è uno standard perché è di proprietà dell'adobe che l'ha creato adobe è quella azienda che per chi non lo sapesse quella di photoshop che tutti conoscete quindi una vecchia una storica azienda nata alla fine degli anni 80 quindi è quella che ha creato photoshop illustrator eccetera eccetera bene questa azienda all'epoca eh aveva creato anche questo particolare formato che si chiama eh pdf eh la lettera p significa print print perché l'aveva creato questo formato l'aveva creato perché eh voi siete dei degli impaginatori avete creato che ne so un manifesto da stampare con determinati colori con determinati font grandezza dei font e quindi vi recavate con i floppy disk oppure con un hard disk vi recavate in una tipografia questa tipografia che lavorava ancora manualmente con i caratteri di piombo con queste cose qua però aveva il suo computerino che era connesso alla alla macchina da stampa e quindi prendeva questo questo file e lo stampava che cosa succedeva succedeva che questo blu diventava questo azzurro diventava in realtà un blu piuttosto che un altro colore qui passava ma un rosso eh qui il font non non era assolutamente questo era un altro cioè cambiava tutto perché cambiava tutto perché questo tipografo non aveva eh i font corretti la non c'era una corrispondenza precisa tra i colori a stampa e quelli invece che voi visualizzavate al computer insomma era fatica quindi dovevate tornare nel vostro laboratorio eh ma spedire i font al tipografo eh sperare che questi li potesse caricare o cercare di simili insomma c'era parecchio lavoro da fare allora la dobi che cosa ha fatto ha inventato questo formato quindi voi adesso create il vostro bel manifesto con i vostri colori i vostri font eccetera eccetera il formato pdf incorpora tutte le specifiche relative ai colori fonte le dimensioni bla 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 e con questo file voi potete andare da chiunque e otterrete una stampa più o meno simile per più o meno simile perché poi dipende dalla macchina da stampa dal sistema che ha però non ci saranno sicuramente delle grandi variazioni allora questo formato il pdf è nato per stampare i libri non per leggerli qualche cosa è successo come capita nella storia dell'informatico dell'invenzione in genere qualcuno inventa inventa qualche cosa per uno scopo dopodiché si scopre che questa cosa è utile per un altro scopo quindi è stata inventata per la stampa e in realtà si è scoperto che distribuire i contenuti in formato pdf era interessante perché si manteneva l'impaginazione chiunque poteva leggere insomma era una cosa carina però appunto non fa parte del contesto ebook che qua